Eccolo, ci siamo. Tutto bene? Bellissimo, bellissimo. La schiena, la parte alta, il collo, questa parte qui, e un po' la parte qui, dei fianchi. Ok, so hips and pelvis mainly. She used to sleep in a crooked way, that's why she feels a lot of pain and she studies a lot, that's why she has some issues. So she showed you the lower back pain, hips, upper back, so it's not dorsal, but cervical and trapezius area, so all this side. Anche dall'anca mi parte proprio più il destro fino a qui. Oh, ok, this is very interesting for us. The whole side, right side, she feels pain along the whole body on this side, so from the shoulder toward the leg. Ok, ma senti dolore sul gluteo? Scende sul gluteo come una sciatica? Sì, fino a qui. Ok, this spot is right, the piriformis muscle, so very interesting for the sciatic pain. E adesso piano piano dovrai piegarti in avanti dalla testa. Just bend forward. Brava, vai, giù, 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 vai, vai, scendi, 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 giù, 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 la testa giù, brava. You see? It's going upward, the right side, so probably we have something to do here, on the right side. It's linked with what she told us. Prima volta che fai questo tipo di trattamento? Sì, prima volta. Augura? Pochino, non troppa. No? Ok, no, she's brave, no, fearless. No, she's not worried about the first treatment. It's the first time she received this hand of approach. We will start from the cervical. Bene, let's start from here. Ok, bravissima, perfetto. Ah! Ci sei? Ci sono, ci sono. Sarà tutto così, eh? Ok, perfetto. Perfetto. More relaxed, more relaxed. Ok. Good. Now, other side. Lascia cadere il corpo completamente. Bravissima, bravissima, bravissima. Perfetto, sì, si abbandona, abbandona. Ok. Ci siamo? Molto bene. Tieni forte, diciamo, il pugno qui. Fai un pugno così, bravissima. Lascia proprio morbido così, eh? Brava. Perfetto. Lascia morbido. Adesso, sì, sì, no, no, tranquilla, tranquilla. Io ti farò una spinta e tu vieni verso di me. Ok. Vai un po', spingi, con questo colcomido verso di me. Brava, spingi, 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 spingi. Brava, brava, brava. Ok. Brava così. E rilassa. Più rilassata che puoi, lascia di cadere. Brava, ferma così. Abbandona, abbandona. Brava. Ok, tutto bene? Tutto bene. Bene, bene. Tu sei domande, chiedi, eh? Andiamo tranquilli. Bene così. Lascia qui rilassata, rimani su con le spalle. Qui comoda, comoda. E adesso però da questa posizione devi lasciare cadere solo la testa. Però solo la testa. Più rilassata che puoi. Brava, 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 brava. Perfetto. Morbida, morbida. Bravissima. Bravissima. Abbandona la testa. Perfetto. Ottimo. Stessa cosa dall'altra parte. Rimani sempre su con le spalle. Abbandona solo la testa. Brava. Solo la testa, solo la testa. Rilassa di del tutto. Morbida, morbida. Ok. Ci sei? Tutto ok? Alla grande. Alla grande. Faccio tutto io, eh? Più rilassata che puoi. Brava. Ferma così. Abbandonata. Morbida, morbida. Abbandona la testa. Perfetto. Perfetto. Ferma così, ferma così, ferma così. Come è andata? Bene. Ok. Già che ci siamo, sfruttiamo questa posizione. Stendi le gambe. Ti rilassi. Bene. Ferma così, eh? Brava. Lascia cadere le gambe fuori dal lettino. Brava. Buttate fuori tutte e due. E ti rilassi. Abbandona tutto. Brava. Eccolo, ci siamo. Tutto bene? Bellissimo. Bellissimo. Bene. No, no, adesso resta su, a pancia su. Ok. Già pronta per l'altro lato. No, no, ancora siamo qua. Bravo. Com'è andata? Dolore? No, bellissimo. Facile, no? Bene, così. Abbandona tutto. Vado io con calma. Brava. Rilassa tutto. Siamo ancora qui, su questo lato. Bene. Abbandona bene le gambe. Falle cadere fuori. Più rilassato che puoi. Abbandona, abbandona, abbandona. Brava. Ancora, ancora una. Ci siamo. Brava. Giù, giù, giù. Rilassa. Abbandona la gamma. Lasciala cadere giù. Brava. Anche l'altra, anche l'altra, anche l'altra. Ferma, non ti contrare, non cadi, eh? Oh, perfetto. Brava. Ci siamo. Controlliamo un attimino questa parte. Dove senti più fastidio qua? Nella parte più su? Sì. Sì. Ecco qua, vero? Sì. Perfetto. Ferma. Sì, facciamo una cosina anche qua. Però ci interessa questa. Sì, proprio qui. Allora. Giù le gambe. Qui non mi dai fastidio, eh? You don't bother me with your elbows. Relax. Perfect. Eccoli. Ci siamo. Ci siamo. Ok, right on the spot. Lascia cadere il corpo. Relax, relax. That's very interesting, Jack. Because I put a fist right here. Yeah, relax. Ok, no worries, no worries. Ok, wonderful. Tutto bene? Benissimo. Ancora una, ancora una. Oh, ci siamo. Brava, rimani rilassata così. Brava, ancora una. Ci sei? Fastidi? No. No. Rilassa, rilassa il braccio. Brava, morbida. Olè, bravissima. Più rilassata che puoi. Brava, ferma così. Mamma mia. Pronti? Vado, eh? Pronti. Ok, morbida, morbida. E andiamo. Bravissima. Perfetto. Ok. Bene, le gambe fa le cadere proprio fuori. Sì, sì, buttale fuori. Brava. Ferma così. Brava. Ancora una, ancora una, ancora una. Rilassa tutto. Brava. E adesso, lascia cadere le gambe abbandonate. Brava. Di nuovo, di nuovo. Abbandona, abbandona. Oh, sì. That one was tough. She's telling me about some pain on the knees. So we'll do something else for this issue. Brava. Lascia tutto morbido. Bene così. Adesso, lascia bend this leg and we'll approach it to the other one. Brava. Più rilassata che puoi. Morbida. Bravissima. Bene. Tira un pochino. Vado. Bene. 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 3, 2, 1. Bene, ci siamo. Brava. Mamma mia, che bello. Torniamo un pochino più su. Bene così. Controlliamo anche qui. Tieni un pochino ai lati. Brava. Bene. Morbida. Ok. Fuori l'aria. Brava. Ispira. Fuori l'aria. Brava. Ispira. Brava. Rilassati. Oh, ci siamo. Liberazione. Eh, questa era importante. Rilassati del tutto. Lascia, ce la lascia morbidare del braccio. Più rilassata che puoi. Abbandonatissima. Bravissima. Bravissima. Ok. Tutto bene? Benissimo. Vai. Bravissima. I'm working a lot on the hip. That was, yeah, it was hard. Because it was a real stock joint. That's why. Solleva la testa. Rilassati di più che puoi. Lascia cadere la testa. Abbandonatissima. Bravissima. Tutto bene? Benissimo. Rilassati. Brava. Brava. Tutto bene? Uh-huh. Abbandonatissima. Rilassata. Brava. Bravissima. Abbandona tutto, eh. Brava. Ah. Brava. Ci sei? Ok. Sei stata fortissima. Riprenditi un attimo dallo shock. Ok. Doloroso, no? No. No. Bello. Bello. Nice. Beautiful. Ok. Tutto bene? Benissimo. Te la senti di nuovo? Da questa parte? Da quest'altra? Da questa sì. Ok? Pronti. Once again. Ok. Vieni ancora un po' più da questa parte. Brava. Rilassa tutto. Ti aiuto io, eh. Brava. Perfetto. Morbida, morbida. Ci penso io. Abbandono la testa. Brava. Perfetto. Brava. Ottimo. Tutto bene? Sì. Tieni di forte. Brava. Ancora una, eh. Ci siamo. Sperma così. Perfetto. Hai visto la differenza? Mamma mia, sì. Erano tre tecniche, questa era la prima invece, su questo lato. Bene, così. Sì. Sì. Ho già approcato la parte in tre diverse mani, perché la parte 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 era molto stocca, molto stocca, molto stocca in l'interno, più profondo in l'interno, e ora ho approcato la parte 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 anche. It's time to treat the sacrum. Adesso un po' di paura. Rilassare il più possibile. Lo posso sempre fare io, eh? Ci salgo sopra io, se no. Dai. No, va bene così. In case she will not like Alize, I can do that, but she's a little lighter than me. Isportabile? Is it bearable? Yes. Ok, drop your hand, lascia cadere la testa giù rilassata. Brava, abbandona tutto. Ok, rilassa, no? Yeah, that's a real powerful approach. Ok. Diana, sei ancora con noi? Sono ancora con voi. Diana, still with us? Sono viva, sono viva. Oh, perfect. Thank you Alize. Great job, great job. Abbandona tutto adesso. Brava, rilassati. Bravissima. Perfetto. Ah, sentivo proprio tutta la colonna vertebrale. Ci sei? Ok, was a kind of explosion. The first hair spine. Riprenditi, questa richiede un pochino di tempo. Come va? Benissimo, mi sento proprio... Bello, eh? Si. Cos'è questo quanto? We have to approach the mouth. Partiamo da qua, eh, con calma. Bravissima, piano piano. Allora, uno, due. Brava. Ci siamo? Seconda parte. Uno, due. Ok. Piano piano. E facciamo un'altra. Uno, due. Ok. Uno, due. Brava. Come va? Faticoso? Benissimo. Facile. Bene. Brava e ti rilassi. Ti aiuto io, eh. Comoda, comoda. Abbandona un po' di più. Uno, due. Ah, ci sei? Di qua è più facile. Vai, un pochino di più. Comoda, comoda. Brava. Uno, due, tre. Oh, buono. Rilassati del tutto. Bravissima. Facciamo una piccola modifica. Ferma. Tu questa lasciala scivolare la mandibola. Lascia andare giù. Abbandona. Brava. Abbandona, abbandona. Brava. Come va? Bene. Bene. La bocca un po' più aperta, rilassata. Brava, perché va da sola. Eccola lì. Bravissima. Brava, abbandona, abbandona, abbandona. Brava. Perfetto. Oh, alla grande. Partiamo da qua. Con calma. Lascia tutto abbandonatissimo. Brava. Perfetto. Ok. Tutto bene? Mmh. Altro lato. Brava, con calma. Lascia cadere la testa. Rilassatissima. Più abbandonata che puoi. Brava. Uno, due e tre. Ah. Brava. Ci siamo. Tutto bene? Bene, bene. Ci sei? Mmh. Comodo, comodo. Bravissima. Inspira. Fuori l'aria. Com'è andata? Tutto bene? E adesso, già che ci siamo, qui. Chiudi bene. Rilassata. Brava. Adesso, abbandona il corpo. Lascia di cadere. Brava. Uno. Due. E tre. Tutto bene? Mmh. Adesso, lascia cadere la testa. Abbandonati. Brava. Qua, perfetto. Brava. Abbandona, abbandona. Oh, com'è andata? Bene. Tutto bene? Sì. Ottimo. Come va? Molto bene. Faticoso? No. No? Rilassante. Ok. It wasn't hard. It was a... Liberazione. Ok. She feels lighter. Leder. Dove? Dove mi senti meglio? Fai un po' di prove. Tutto qua. Fai soprattutto qua. Senti leggero? È bene. Anche la mandibola. Proprio leggera. Prova? Tu bene? Sì. Va. Ok. So, it's fine on the joint. The joint, so the jaw, it's fine on the low-back pain. Yes, but what was the... The main issues? Qua. Tra il collo e... And released everywhere, here on the upper back. Ok. So, mission accomplished. And now, let's say goodbye to our friends. 3, 2, 1. Bye bye. Ciao.